Mi spiace tanto, ma io soffro di perdita di memoria a breve termine. Perdita di memoria a breve termine? Non ci posso credere. No, è vero! Dimentico le cose all'istante. Tutti così in famiglia. Beh, insomma, almeno credo che tutti... Che fine l'ho fatto? Posso aiutarla? Tu hai qualcosa che non va. Davvero. Mi fai solo perdere tempo. E io devo trovare mio figlio. Ciao. Oh, ciao! Mi chiamo Bruto. Lo so, in fondo vi capisco. Perché fidarsi di uno squalo, giusto? Ah! Allora, che cosa ci fanno due stuzzichini come voi in giro a quest'ora? Niente, non facciamo niente. Non siamo neanche in giro. Grandioso. Allora, bocconcini, vi andrebbe di venire ad un raduno insieme a me? Sarebbe una festa? Sì, sì, esatto, una festa. Allora, che ne dite? Oh, mi piacciono le feste? Ci saranno a divertirsi. Siamo molto tentati e ci piacerebbe, ma non possiamo perché... Ah, andiamo. Insisto. Va bene, se proprio insisti. Guarda, dei palloncini. È proprio una festa. Ah, attenti a non avvicinarvi. Quei palloncini fanno brutte sorprese. Meglio non farli scoppiare. Randal, fiocco! Sei tornato, Bruto, finalmente! Abbiamo ospiti. Era ora, amico. Abbiamo finito i salatini e sono ancora affamatissimo! Abbiamo l'acquolina in bocca! Forza, leviamoci il pensiero!